In avvicinamento, presto saranno qui, quanto tempo ti serve ancora? Solo pochi minuti, trasferimento dati GPO 1.5 completato, trasferimento dati GPO 6.7 in corso, ecco, ci siamo quasi. Cosa? Il sistema si è bloccato, deve essere entrato in azione un filtro di controllo, non riusciremo a copiare i dati per il nostro signore Sinardo! Le dati di mezzo, ci penso io.